E' chiuso? Posta! Oh, ce l'ha fatta, quanto cazzo ci ha messo? Il tempo suo? E' lunga la farmalena qua, eh? Eh, e' lunga, si siete fermi a mignotti. Ma strunzo, che ti sembra il tipo la mignotta io? Perché non ci sono più Mi è piaciuto, tesoro? Gli amori tornano in città Vabbè, va. Ma vedo che manchi solo di... Bufoni, Ruggero 19 maggio del 1977 E' un anno fa Oh, quanto ci manca? Nura Grazie, ancora devo comprare i pannonivi per pupo Ma si fanno parti in corpo per sbaglio, eh? Tanto per comprare i suoi pistole non le trovo Ma io da no Poi il freddo si incazza Colci già nervoso da suo E' meno male che non hai sposato Oh, da quando è nato mi fio so solo preoccupazioni Dormì non se ne parla I sordi poi escono che è un piacere O io arrivo a stento a fine mese Manco fossi impiegata dai posti Basta, lo fammolo fuori che mi aiuta la farmacia Trenta denari che c'è staffa? Batti cazzo da lui, no? Si A quello gli è venuto il braccietto corto Dice che i sordi non ci stanno Che appena entrano spariscono La verità è che quello è un gran fio denaro Ma la verità è che ti fa più furba scrocchiazzì In che senso? Tu lo spieghi un'altra cosa Si, a mo' quanto ci manca? 55 minuti Ancora un minuto scrocchiazzì Che te l'ho detto? Niente pistole Lo potevamo ammassare una farm E non mi ero risparmiato in cazzo Tra la tratta di dell'anno Che ne vado a fare Non mi è un'altra cosa Un'hanno Ma La 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 dai dai coglioni aspetta un po' questa amica è nostra ma che sta ragazzi? una parte ti ho preso 4 oberetta una biglotta allora l'avete riprese le pistole? tutto a posto sono già in magazzino bravi bello? ti avevo detto che ne controllava infatti una bella e tant' più o meno ma che c'è i gambi? sti cazzi non ci penso che mi pare una stronzata perché è una stronzata? metteci a stipendio come tanti pischelli dei quartieri e poi adesso che il freddo se ne sta andando eh u ma lasciate dirà ma parla c'è no? lo conosci da una vita? te sei l'unico che può fare ragione ma chi è? è il libanese una volta forse quello di oggi io non lo conosco allora via al posto suono noi non aspettamo altro tanti e che vorresti fare? parcheggiare il libanese? che cazzo vedi c'è il cervello? quello che volevamo dire ha capito ora sta a te andate un affanculo allora Grazie.